Grazie, scusi un attimo, non ci abbiamo, consiglio per l'arquisto. Un monostromo tenero e pur compatto. Oh, Molly. Una babysitter per Molly. Ma tu e io dobbiamo trovare il modo di comunicare. E papà? È troppo presto, presto per conoscere una donna. Molto lieta. Una moglie per papà. E Corinna? Qualcuno anche per lei. Una moglie per papà. Quella giusta però. In Prima TV per i filmissimi, Upi Goldberg. Ray Liotta. Una moglie per papà. Lunedì 20.50, Canale 5. Skoda ha costruito lo stabilimento più moderno del mondo. Per offrirvi un'auto completamente nuova, frutto di una tecnologia innovativa. Un'auto dal design moderno, con equipaggiamenti di alto livello, rifiniture di prestigio e una qualità di classe superiore per darvi il massimo comfort e garantirvi un elevato standard di sicurezza. Octavia. La nuova espressione di Skoda. Il mio coraggio. Toglietemi tutto, ma non il mio brea. Una straordinaria novità. È arrivata la nuova Kodak Gold. Nuova Kodak Gold. Ultra straordinaria. Io canto in un gruppo. A me è più una passione che ho il lavoro. E in quei momenti lì, con l'adrenalina che sale, dovevo rimettere il deodorante a metà serata. Con questo no. Mi sono detta, finalmente è uno che dura. Nuovo DAV deodorante. È totalmente senza alcol. A differenza dei normali deodoranti, non evapora. Così è efficace più a lungo, mentre la crema si prende cura della pelle. Altra sera ho fatto un pezzo per la prima volta, ad esempio, ed ero emozionata. Beh, è ferita con l'applauso. E quando io mi sento sicura, anche il pubblico lo sente. Allora, dobbiamo diventare più... Più forti. Certo, ma sì, dobbiamo migliorare la produttività. Non è semplice. Dobbiamo pensare anche alla soddisfazione dei nostri impiegati. Qualcuno ha un suggerimento? Sì. Questo. Xerox Document Center. Non è un suggerimento. È la soluzione. Xerox Document Center. Molto più di una copiatrice, di una stampante, di un fax, di uno scanner. È la libertà nell'ufficio. Per liberare il vostro ufficio, chiamate Xerox. 1-6-7-6-6-0-0-0-9-9. Erano degli insoliti criminali. Nella notte sbagliata. Ok, ci siamo! Entrate! Matt Dillon. Faye Dunaway. Gary Sinise. Non mi costringete a farlo! Insoliti criminali. Miglior film al Noirin Festival. Dalla ricerca a Whitehall, Multicentrum. L'integratore completo. 31 vitamine e minerali indispensabili. Per stare bene e vivere meglio, Multicentrum. L'integratore completo dalla A allo zinco. Oggi anche in formato famiglia. Ranieri. Creato con cura. Maneggiare con cura. Mamma, ma quando arriva? Ma ora sta arrivando. Ma perché devo arrivare? Forza, forza, che sta arrivando! Papà! Era 16 valvole. 16 valvole. Climatizzatore e servosterzo. Opel Astra Station Wagon. Climatic. Panorama presenta Moog. Il libro della giungla. Un'avventura straordinaria per grandi e piccini. Mai visto in tv. E solo 5.000 lire e la cartoguita dell'Emilia Romagna. Con panorama. costa poco ed è di GT. GT Casa Alarm. Presente. Visto il successo del nostro programma, vi avviso già che le previste otto puntate sono diventate note. E nella nona puntata faremo una specie di Coppa dei Campioni. Cioè tutti i più bravi di questi anni che si sfideranno. Si sfideranno in una gara all'ultima barzelletta. Donne contro uomini. Per una puntata tutta speciale la sai l'ultima? Lui contro lei. Domani 20.50. Canale 5. Chi sceglie Lorenz sa quando l'orologio non serve. Consiglio di acquisto. No, io chiedo solo... Quando oltre al pulito vuoi anche igiene, un normale detergente non basta. Nuovo Cif Gel con candeggina si scioglie facilmente in acqua. E ti dà senza risciacquo pulito brillante e in più igiene. Cif Gel con candeggina scioglie lo sporco più difficile senza fatica. E tutta la casa splende e respira di pulito. Nuovo Cif Gel con candeggina. Pulito e splendore. Imbattibili. Campari Soda. Oggi c'è una ragione in più per scegliere Escort. Grazie al contributo sulla rottamazione puoi averla a 21.920.000 lire. E se scegli Idea Ford, la quota è di 370.000 lire al mese. Ford Escort va dove ti guida il cuore. Allora, le piace? Che meraviglia anche il mare. Sembra di stare in paradiso. Siamo in paradiso. Scusi, ho la testa fra le nuvole. La siamo fra le nuvole. E vabbè, allora non parlo più. Ma dove va? In spiaggia. Ah, dietro. Le scarpe. Lì è profonda. Ebbè, ma allora ditelo, eh. Però ne ha bevuta d'acqua, eh. No. Per fortuna io bevo solo caffè. Scusatemi. Si figuri. Prende un caffè con noi? Volentieri. Torno subito. Certo che per lei ogni pretesto è buono. Eh no, no. È giusto. Eh, è crema e gusto, ogni pretesto è quello giusto. Eccoci! E l'armadio come lo prende il caffè? Doppio? Rote 66, la nuova fragranza di Cotì. From Chicago to LA, from the east to the west, that's Rote 66. Think of the cakes you get. Rote 66, il tuo profumo, la tua libertà. Bevi piano, che è freddo. Rodino, analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Cosa vi faccio? Un bel salsa di quattro formaggio e un pesto alla genovese? Buono questo pesto, ma come lo fa Diego? Basilico, olio, grano, pinoli, aglio, conservare in frigo. Bultù, star bene a tavola. Limon c'è, chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è. Megane Chenique è l'auto dell'anno. Megane System, l'idea che cambia l'auto. Tutta la cremosità e il gusto del vero tiranissù sono racchiusi nel gelato Cardor. Cardor, solo gustandolo puoi capire, da Algida. All'estero ci sono 58 milioni di italiani. Vedi quell'albergo, quello è di un italiano. Vedi quel grattacielo, quello va fatto un italiano, vedi. Ciao a tutti in Italia! Salute tutti le mie, c'è i parenti in Italia. Sono il ministro dei trasporti della provincia dell'Ontario. Queste sono le caramelle che devo portarli. L'altro li devo portare, più niente c'è. Riappracciate, riappracciate. E Maria? Perché io così. Non mi piacerebbe riabbracciare il suo fratello, Maria? Eh sì. E allora lo riabbracci! Chi sceglie Lorenz sa quando l'orologio non serve. Prendermi dal cognome, mandi i consigli per gli acquisti e poi le dà la parola. Consigli per gli acquisti. Un monostromo tenero, eppur compatto. Signora mia! Voi avete una figlietta, ed essa vi adora. Siete il suo idolo, il suo eroe. Ciao cara. Ciao. E poi a un tratto è troppo tardi. Elisabeth Taylor, Spencer Tracy. Come hai detto che si chiama? Oh, papà! In un classico del grande cinema. Un evergreen che non smette mai di divertire. Ecco, crederesti se, se dessi a te appoldo 1500 dollari, sareste disposti a scappare? Il padre della sposa. Domenica 20 e 30, Canale 5. Cosa trasportano, lo signore? Eh, risparmi dei correntisti. E cosa ne fate? Una gestione oculata, fondi di investimento, una soluzione su misura per ogni galantuomo. Siamo il credito italiano. Fra te, no, no, di pietà! Fra te, Jack! Aggiungete queste, e abbiatene cura. Credito italiano, da sempre dalla parte di chi risparmia. E io che li ho dati a mio cognato. Erano degli insoliti criminali. Nella notte sbagliata. Ok, ci siamo! Entrate! Matt Dillon. Faye Dunaway. Gary Sinise. Non mi costringete a farlo! Insoliti criminali. Miglior film al Noir in Festival. Come vorrei essere tra i coralli e i colori del Mar Rosso. Come vorrei essere in Egitto. Ritrovare i miei sogni. Perdermi nella gioia. Dimenticare che ora è. Essere libero. Sempre. Nuova Peugeot 306 Station Wagon. Un'auto che ti darà solo emozioni e mai problemi. Nuova Peugeot 306 Station Wagon. L'importante sei tu. Scopri la venerdì e sabato fino alle 22. Prova la domenica dai concessionari Peugeot. Che c'è arrivato a casa, eh? Smac sciogli calcare nuova formula. Smac sciogli calcare? È più efficace del 20%. Contro il calcare di bagni, docce. La bella. Fa vedere. Smac sciogli calcare. Da prendere al volo. Preso! Specialmente il pacco doppio con il 33% di sconto. Smac sciogli calcare. Più efficace e più conveniente. Nell'ossi lente nuote nessun potrà dormire. Preso Mirabilandia è qua. E qua l'è? Non dici in distanza. E Mirabilandia non c'è altro nemmanto più divertente. Brava gente, emergente, sorprendente, stupefacente. Mirabilandia è qua. Qua, qua. E qua c'è la promozione. Il sale di Sicilia ti offre l'occasione di un billetto regolato. Si viene accompagnato.